E' stato assolutamente in vertice in Europa, anche se oggi parte da due sconfitte da recuperare contro la Knorr Bologna. Rusconi che in questo momento è l'unico grande rimbalzista e si è costretto ad aiutare o ad intervenire sulle penetrature. L'orgoglio di Treviso è quello che volevamo vedere dai campioni d'Italia, quello che volevamo vedere da una squadra che ha un uomo come Toni Kukoc. Che va ora a segno da tre punti, Toni Kukoc per anni miglior giocatore d'Europa. Finora giocata abbiamo visto ad un certo punto parziali di Treviso, un 13-0 nella prima, un 10-0 nella seconda, che avevano messo in discussione la partita. Vedete l'assist di Kukoc, non c'era in semifinale, è andato a segno da tre, 41-19. Toni Kukoc è l'unico che potrebbe cercare di cambiare la partita. La sua ultima partita per lo Scudetto lo sta facendo in maniera egregia e noi fino adesso non siamo riusciti ad apporre alcuna resistenza. Queste le parole del presidente della Venetone, Enrico Fumo, 44... Toni Kukoc su Koldevella va a realizzare Kukoc 11 punti, 5 su 8 la sua percentuale al tiro, un po' travagliata dobbiamo dirlo perché aveva iniziato tagliando senza vini del negro, sostituito da Territigolo, rinunciando praticamente ad avere un play titolare. ...di reagire, hanno l'orgoglio per poterlo fare, per volerlo fare, però si trovano di fronte a una Knorr, quindi... ... ... ... ... ... ...